Il capriolo è un animale che ha una gestione del cucciolo molto particolare, nel senso che apparentemente è una mamma poco attenta, in realtà è una procedura che per questa specie è perfetta come gestione. La madre allatta il cucciolo e poi si allontana, quindi tutte le volte che noi vediamo un piccolo di capriolo non è abbandonato, ma è proprio la madre che è apposta e si è allontanata, questo lo fa perché il capriolo non puzza, quindi è difficilmente percepibile dai predatori e la madre andando lontano allontana i predatori stessi da un potenziale aggressione al cucciolo, quindi la cosa che noi dobbiamo fare è lasciarlo lì tranquillo, tranquillo vuol dire che dobbiamo allontanarci anche perché se siamo presenti in zona la madre stessa non si avvicinerà al cucciolo fino a quando non ci siamo allontanati. Se ripetiamo che si tratti di un animale invece che è un orfano, questo lo possiamo fare facendo ripetute visite ma a distanza, cioè tipo ogni ora e allora se vediamo che il cucciolo non si è esportato, allora è evidentemente un animale in difficoltà, a questo punto chiamiamo i numeri del canci, i quali daranno eventualmente tutti i consigli e se del caso consiglieranno di prelevare il piccolo per portarlo presso il nostro centro.